Tre benefici in una sola bottiglia. Benefici alle tasche perché un litro d'acqua costa appena 5 centesimi di euro. Benefici alla salute perché la qualità dell'acqua è monitorata costantemente, ma soprattutto benefici all'ambiente. Perché ogni bottiglia di vetro riempita in una delle 19 casette dell'acqua gestite da marche multiservizi e distribuite sul territorio provinciale rappresenta una bottiglia di plastica in meno che entra nel circolo dei rifiuti. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono alla casetta dell'acqua di Pesaro presente nel parcheggio San Decenzio installata da tre anni insieme alla casetta gemella di Villa Fastigi. Tanti pesaresi arrivano con le loro cassette di bottiglie di vetro e si riforniscono con frequenza a un punto d'erogazione attivo 24 ore su 24. Il sistema è elementare, spiccioli o carte alla mano per spingere tre coppie di pulsanti divisi fra acqua liscia, frizzante o leggermente frizzante. Un sistema che moltiplicato sulle 19 casette dell'acqua in provincia gestite da marche multiservizi ha permesso di erogare 1 milione e 200 mila litri d'acqua nei primi nove mesi del 2021. La casetta dell'acqua oltre ad erogare acqua di qualità, che è quella poi che puntualmente abbiamo nei nostri rubinetti, lì addirittura è di una qualità supplementare perché ha dei controlli costanti gestiti direttamente da Adriatica Acqua in alcuni casi, in altri direttamente dalle amministrazioni comunali. Siamo riusciti a togliere tutto quello che è l'imballaggio di plastica e ad erogare quantità molto importanti e quindi garantendo da una parte l'aspetto ambientale e dall'altra un utilizzo costante di acqua del nostro territorio. Vedo e riscontro anche da parte degli amministratori locali una grande sensibilità e una gestione molto intelligente di questa casetta dell'acqua che sempre di più sta portando risultati nel territorio. Grazie. Grazie.